Ciao a tutti, in questo video voglio parlare di dipendenza affettiva, la guida per superarla il più rapidamente possibile. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. E ti ricordo che sul mio canale Felicità Benessere farò il primo seminario online che si terrà martedì 31 marzo dalle 20.30 alle 23 su Seduzione in Amore. Per partecipare basta che vai sul canale Felicità Benessere e ti abboni all'abbonamento Sezione Seminari Online. Pesso abbonati e poi Seminari Online ti abboni. E veniamo al tema della dipendenza affettiva. Cerchiamo di capire perché in un percorso di crescita personale è molto importante rendersi conto di cos'è la dipendenza affettiva e superarla. Allora, dobbiamo tenere presente che vi sono diversi tipi di dipendenza affettiva. Ci può essere la dipendenza affettiva se siamo in coppia, la dipendenza affettiva se siamo dei single o dopo la fine di una relazione sentimentale affettiva. Allora, dipendenza affettiva in coppia si manifesta quando una delle due persone dipende dall'altra. Dipende dall'altra e da molte cose, non soltanto affettivamente, sicuramente teme di perdere l'altra persona. Quindi ha una forte paura di perdere l'altra persona e quindi si pone come dipendente. Quindi non incapace, diciamo così, di fare delle cose anche banali, fare delle scelte, prendere delle decisioni. Ha sempre bisogno costantemente di chiedere all'altra persona, qualunque cosa essa sia. Poi abbiamo una dipendenza affettiva dopo la fine di una relazione sentimentale affettiva. Qua la dipendenza che spinge compulsivamente la persona a cercare, a cercare il partner, a cercarlo, a cercare l'ex, è proprio dovuta alla paura di sentirsi soli. Quindi solitudini abbandonite, diciamo così, sono le cose peggiori. Inoltre subentra la paura che il partner possa trovare un'altra persona e quindi finalmente, diciamo, lui sistemarsi e tu rimanere da solo o da sola. Questa è un'altra delle paure che fanno fondamentalmente stare male. E poi ci sono, diciamo, la dipendenza affettiva della persona, single. Single che può essere, diciamo, single perché è da sola, perché non riesce a trovare la persona giusta, o anche una persona in coppia che però si sente sola. Cioè sta con un altro ma è come se non ci fosse. Come possiamo, diciamo, capire se viviamo una dipendenza affettiva? Beh, dobbiamo prestare un'attima attenzione ai nostri comportamenti, perché i comportamenti sono essenziali. Cioè ad esempio se cerchiamo spesso questa persona, abbiamo sempre bisogno di sapere dove si trova, andiamo a spiarlo sui social, andiamo a spiare gli stati di WhatsApp, andiamo a spiare, diciamo, qualunque cosa faccia. Poi non facciamo nessun progetto da soli. Abbiamo sempre bisogno di avere l'altra persona a fianco. Non riusciamo a prenderci i nostri spazi, non riusciamo a fare nulla. E poi basta un piccolo allontanamento, una piccola, diciamo, screzzo, qualcosa che subito temiamo di perdere. Abbiamo sempre questa paura costante che l'altra persona ci possa lasciare, che ci possa far star male. E quindi queste sono le cose fondamentali. Quali sono le cause, diciamo, che generano la dipendenza affettiva? Beh, sicuramente sono gli imprinting vissuti, gli imprinting di condizionamento, di condizionamento che abbiamo sviluppato nell'infanzia, soprattutto nel rapporto della famiglia d'origine. Quando un genitore, ad esempio, o tutti e due i genitori, in qualche modo ti condizionavano. Cioè ti hanno condizionato fin da piccolo nelle tue scelte, generando quello che viene chiamato una sorta di conflitto di scelta, un complesso del condizionamento. Per cui ti sentivi sempre condizionato, sempre condizionato nelle scelte, in modo tale che questo condizionamento diventa un'abitudine. Diventa un'abitudine e tu temi che se non c'è un'altra persona, quindi che guida la tua vita, di non essere in grado di fare le cose. E quindi inizia a temere di essere abbandonato, l'abbandonite. Ecco, tutti questi imprinting messi assieme generano quello che si chiama dipendenza affettiva. Inoltre anche viene acuito questa cosa dal passato sentimentale. Cioè se nel passato sentimentale è sperimentato delle delusioni sentimentali, tradimenti, oppure relazioni con persone manipolative, narcisiste, allora è facile che tu abbia ancora incrementato ancora di più questa tendenza alla dipendenza. Ovviamente questo è legato anche alla disistima. La disistima in se stessa è un'altra delle situazioni che causa spesso dipendenza affettiva. Dobbiamo tenere presente che anche la dipendenza affettiva è una delle caratteristiche fondamentali. Questo dobbiamo tenerlo conto, dobbiamo tenere conto anche di questa situazione. E come uscire fuori, diciamo così, dalla dipendenza affettiva? Bene, la cosa fondamentale è imparare a gestire le proprie emozioni. Se non impariamo a gestire le nostre emozioni, non riusciremo a venire fuori in nessun modo dalla dipendenza affettiva. Cosa vuol dire imparare a gestire le proprie emozioni? Beh, imparare a renderci conto che se non andiamo a ristrutturare, per così dire, la nostra emotività, difficilmente riusciremo a venire fuori dalla dipendenza affettiva. Ora, uno può farlo andando indietro, nel tempo, eccetera, ma si può fare anche nell'oggi, attraverso quelli che si chiamano atti di coraggio. Cioè, una volta che hai preso atto del fatto che stai vivendo una dipendenza affettiva, puoi venirne fuori attraverso degli atti di coraggio, che sono degli atti che vanno a somministrarti proprio quello che vorresti evitare, fondamentalmente, no? Cioè, ti somministri la solitudine, ti somministri, te la somministri da solo. Cioè, gli dai questa la tua parte emotiva, in modo tale che si crea un'alleanza. La parte emotiva vuole questo cibo e tu gli dai quel cibo lì, in modo tale che non vada più a cercarselo fuori. Cioè, tu diventi, tu, sfera logico-razionale, cioè nella quale ci identifichiamo, diventi simbolo per la parte emotiva. E quindi, piano piano, non avrai più necessità di andare ad agganciarti su queste cose, perché la tua parte emotiva capisce che ha in te un prezioso alleato. E quindi, come diceva Tony Robbins, grande della pianelle, dentro di noi c'è un gigante, che può essere il nostro, un feroce tiranno, ma può essere anche il nostro più prezioso alleato. Ecco, attraverso questa autosomministrazione di tensioni emozionali, la nostra sfera emotiva diventa un prezioso alleato. Per cui, piano piano, si sgancerà da tutte quelle situazioni che generano dipendenza, inizierà ad agganciarsi su situazioni che invece generano il contrario, cioè generano l'indipendenza. Inizierai ad apprezzare, a nutrirti di indipendenza emotiva, che sempre l'emozione è, ma l'inverso. Ecco, quindi questa commutazione avviene attraverso gli atti di coraggio che si possono fare. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Tramaschi, iscriviti al canale e ti ricordo il mio seminario online sul mio canale Felicità Benessere che si terrà martedì 31 marzo dalle 20.30 alle 23.00 per partecipare. Basta andare sul canale Felicità Benessere e abbonarti con l'abbonamento Seminari Online. Il titolo del seminario sarà Seduzione in amore. Bene, per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!